Allora, intanto grazie Gerardo e grazie a chi è collegato. Intanto, Gerardo non me ne voglia, ma sono un po' attento in questi mesi ai vocabolari e agli abecedari, soprattutto, visto che ci ho fatto un libro poco tempo fa su un abecedario della comunicazione rinnovata. Ed è curioso come nel tuo reclamare innovazione in un alfabeto che vada dalla A di acquisizione alla V di vendita, ti dimentichi di una lettera che non è preparata, mi assicuro. Adesso stavo ascoltando l'intervento di Gerardo e mi è arrivata questa riflessione che tradisce un equivoco di fondo che è di questo settore, ma del vostro come di tanti altri. Dalla A di acquisizione alla V di vendita. Quindi non abbiamo neanche l'onestà intellettuale di replicare un vocabolario per un settore che contempli tutte le lettere con uguale dignità. E prendiamo a prestito narrativamente due parole che di fatto denunciano il ricatto commerciale all'interno del quale questa industria, come tantissime industrie, è inserita. Che è il ricatto della vendita, dalla A di acquisizione, l'acquisizione del lead, alla V di vendita, che è l'ultimo miglio, quello in cui si chiude il cerchio, crediamo, si chiude il cerchio del nostro mestiere nell'acquisto di quello che noi vendiamo. E quindi la nostra professione cosa diventa? Una professione di tipo commerciale. E in un tempo ibrido, come ben l'ha definito Gerardo, io esco proprio in queste ore da una rassegna che si chiama, che ho intitolato proprio l'età ibrida, a significare questa via di mezzo all'interno del quale noi siamo pericolosamente inseriti. Dico pericolosamente perché qui si gioca la partita di quello che saremo domani. Veniamo da un mondo che conosciamo perfettamente, andiamo verso un mondo che non conosciamo assolutamente. E io per questa rassegna ho usato una metafora visiva molto precisa. È quella di un funambolo che cammina sul filo. Può cadere, può precipitare oppure può arrivare dall'altra parte. Sono innamorato delle riflessioni di un francese, Funambolo, il primo, che mise un filo d'acciaio tra le due Twin Tower, quando c'erano le Twin Tower, Petit, e ha scritto un libro molto bello che si chiama Il trattato di un funambolismo, che forse varrebbe la pena avvicinare. Allora, questo non è una reprimenda da anziano professionista del settore. Questa è la preghiera di qualcuno che da tempo osserva il mondo per come ci sta capitando e prova a darvi dei segnali urgenti e necessari a me se non concesso che la cosa vi possa interessare. Il primo segnale fondamentale ve l'ho appena introdotto. Questo non può, come tanti, è qualcosa che riguarda voi, ma riguarda anche me, riguarda anche il mio mestiere, soprattutto il mio mestiere, ma riguarda tantissime altre professioni che hanno fatto del profitto l'unica ragione d'essere, della vendita e del contratto l'unico motivo per cui stare sul mercato. Questo è, che vi piaccia o meno, poi potete registrare come volete questa informazione, guardate a me, quello che farete dopo le mie parole interessa fino a un certo punto. Io vi sto dando dei segnali, poi ciascuno li potrà gestire come meglio crede. Questo è anacronistico, cioè ridurre qualsiasi mestiere, qualsiasi industria al momento della chiusura della vendita è fondamentalmente un segno che arriva dal passato e che sicuramente non è proiettato verso un futuro che invece ci sta insegnando, grazie all'arrivo delle nuove generazioni, nuove generazioni di consumatori, ci stanno insegnando che le ragioni delle scelte, attenzione, delle scelte e non dei consumi, sono prima di tutto delle ragioni valoriali. Questi ragazzi in altre industrie stanno dimostrando che il nuovo potere di acquisto che loro stanno esercitando nei confronti di chi fa mercato è una adesione quasi esistenziale, no? Tu marca, mi rappresenti per come stai sul mercato, i tuoi portati valoriali risuonano con i miei, io ti scelgo e ti porto nella mia vita, ti porto nel mio scaffale, ti porto nel mio guardaroba, ti porto sulla mia scrivania, ti porto in strada, se guido, se pedalo o se salgo su un monopattino, ti porto in un camerino per vedere come mi stai anche addosso, che sia virtuale o meno, in questo momento a me non interessa l'età ibrida, ci sta dicendo anche che questa barriera tra fisico e virtuale è una barriera anche questa che vi piaccia o meno anacronistica. E quindi è da loro, è da questa generazione che arriva un'obbedienza civile completamente nuova, completamente diversa da parte di molte marche, che stanno ridisegnando completamente il loro stare sul mercato, alcune stanno addirittura ridisegnando il proprio modello di business. Quindi c'è una pericolosità in atto, una minaccia molto forte. La vostra industria, la mia industria, quella della comunicazione, l'industria dei viaggi, per esempio, o l'industria assicurativa, mettetene in fila quelle che volete, sono industrie agenziali, c'è l'agenzia assicurativa, c'è l'agenzia viaggi, c'è l'agenzia pubblicitaria, c'è l'agenzia immobiliare. Noi siamo agenti. Cosa vuol dire che siamo agenti? Che intermediamo una transazione, un flusso, che può essere di comunicazione, ma può essere anche una transazione commerciale. Noi siamo nel mezzo, siamo agenti appunto, tra una sorgente e un destinatario. Ho detto, siamo, nel rispetto di quello che fate ogni giorno, e per non essere troppo terroristico, perché un conto è essere strong, è altra cosa essere stronzi, però in questo percorso non possiamo non vedere che molti degli agenti che erano in buona salute prima dell'arrivo dell'internet si sono persi un po' per strada. Se pensate alle agenzie viaggi, un esempio più eclatante di intermediazione che è stata completamente disintermediata da un'industria che è andata alla velocità della luce con l'inserimento di nuovi player, uno dietro l'altro, ciascuno con la propria innovazione tecnologica, che alla fine cosa hanno portato? La disintegrazione di un mestiere che non è stato in grado di rinnovarsi. E qui vengo al punto forse più centrale di questa riflessione che sto facendo insieme a voi, in tempo reale, riflettendo ad alta voce, mosso solamente, oltre all'invito di Gerardo, dalla voglia di sensibilizzare i più attenti di voi a cambiare il modo di fare le cose, non tanto in termini tecnologici. Quando si parla di innovazione, prima Gerardo l'ha usata questa parola, credo, almeno tre, quattro, cinque volte. Quando si parla di innovazione, l'altro equivoco che si consuma è quello che si pensi che innovare sia introdurre tecnologia all'interno del proprio mondo, all'interno del proprio servizio. E questo cosa vi procura? Vi procura una barriera cognitiva. Alza una difesa legittima, perché molti di voi, molti di noi, hanno un'età tale che non gli permette più, magari, di aver voglia di cimentarsi con nuovi apprendimenti di questo tipo. Ma vedete, l'innovazione tecnologica noi la possiamo delegare a terzi, ma riusciamo a delegarla a terzi nella misura in cui il nostro atteggiamento mentale è un atteggiamento innovativo. Quello che a me, personalmente, ha insegnato Internet, io ho cominciato a scrivere Internet vent'anni fa, è che io dovevo cambiare il mio baricentro narrativo. Da professionista della comunicazione dovevo spostare l'asse da me, dal riferimento della marca che comunicava, al riferimento del pubblico che riceveva. Questo è stato uno spostamento di equilibri che non ha nulla a che fare con la tecnologia. La tecnologia mi ha semplicemente abilitato i neuroni e mi ha fatto scoprire delle dinamiche nuove. Ora, lo sforzo che dovete fare è esattamente questo, perché se aspettate di avere l'investimento per poter fare le visite virtuali dei vostri bellissimi appartamenti e non avete la forza, non riuscirete a trovare un altro modo per superare la situazione in cui siamo. E quando ci troveremo dall'altra parte di questa età ibrida, quando finalmente le nuove direzioni saranno chiare, non saranno né analogiche né digitali, saranno in una splendida via di mezzo, finalmente battuta da qualcuno, voi sarete o a reclamare, o a protestare, o ad aspettare un'onda di ritorno che non arriverà più e non arriverà soprattutto per chi non è stato in grado di cambiare il proprio abito mentale. Cambiare il proprio abito mentale significa che tra l'acquisizione e la vendita mettiamo insieme altre cose, mettiamo insieme la relazione, mettiamo insieme, sto pensando alle lettere come mi vengono, sto pensando, Gerardo parlava del dato, anche il dato viene strumentalizzato ai fini commerciali. E se invece del dato per la D usassimo la parola dialogo, per esempio, dialettica, se per la S usassimo la parola scambio, se per la C usassimo la parola contenuti, e dopo di me c'è Rudi che da questo punto di vista è un maestro, se usassimo la parola cultura, se usassimo la parola convergenza, convergenza, se usassimo la P di patto, patto, con chi sta dall'altra parte, trovatele voi. Facciamo questo gioco, usate la giornata di oggi per appuntarvi sul quaderno che avete accanto, un nuovo vocabolario dove da la A alla Z questa volta, provate a trasformare le parole commerciali che sono nel vostro fottutissimo vocabolario da anni e provate a trasformarle in una chiave più mi viene da dire umana se voglio fare il il guretto in trend topic perché adesso si parla tanto di umanizzazione digitale. In realtà vi chiedo semplicemente di trovare un nuovo vocabolario che provi ma solamente per oggi, nella giornata di oggi, a dimenticarsi l'urgenza della vendita e a preoccuparsi della necessità della relazione con chi sta dall'altra parte. Mi fate vedere la diapositiva che vi ho mandato questa mattina. Guardate cosa sono riusciti a fare i signori di La Vedono. Perché io non la vedo quindi mi fido della regia. Guardate cosa cosa succede narrativamente a quello che voi vendete. Cosa sta succedendo in questo momento agli immobili. L'Only Planet dedica che sia vero o meno in questo momento non ci interessa ma nell'immaginario entra prepotentemente la casa come destinazione di viaggio. Certo che è uno scherzo però guardate proprio ieri neanche a farlo apposta perché poi io sono anche abbastanza fortunato nell'intercettare le cose che mi serve dire a poche ore da da questo genere di inviti. qui c'è un articolo su focus imprese di affari e finanza di Repubblica che parla di casa come hub esistenziale. Per noi per chi le vende sono sempre stati perimetri un total metro da consegnare insieme alle chiavi a qualcuno e senza magari interrogarci tanto su quanto destino ci fosse dentro quella vendita quanta paura quanto desiderio quanti sogni dentro una casa che viene comprata che sia due locali tre locali cinque un real estate quello che vi pare ma c'è tanto di destinico nel bene che avete tra le mani e e non potete ridurre la vicenda solo e soltanto a una transazione economica che nel momento del rogito si conclude senza nessun tipo di continuum dialettico con non tanto con il compratore ma con una comunità con un territorio con persone che quello che vendete voi investono non solamente del denaro ma delle aspettative esistenziali guardate articolo anche questo di ieri un ragazzo sta facendo una cosa straordinaria sta comprando casa passando di baratto in baratto coinvolgendo su instagram una comunità infinita di persone è partito da un sasso ha venduto ha barattato il sasso adesso è a una bicicletta e ogni baratto sale 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 perché vuole arrivare a una casa questo esperimento lo sta facendo in italia quindi seguitelo ed è un esperimento che negli stati uniti è riuscito a una coppia a una giovane coppia di ragazzi che di baratto in baratto sono riusciti a arrivare su una casetta all'interno della quale iniziare la propria vita oppure se volete se preferite barcamenarvi con altri destini narrativi guardate la copertina di ieri di repubblica di salute come dipinge la casa vite in gabbia quindi le nostre case nella narrazione pandemica stanno diventando delle gabbie all'interno del quale noi consumiamo il nostro lavoro consumiamo le nostre esistenze i nostri figli consumano la loro didattica in una logica perversa in cui sembriamo non trovare più sbocco allora voi potete decidere se essere dei carcerieri cioè se vendere gabbie o se proiettarvi in un rapporto con chi sta fuori dalle vostre agenzie con chi sta fuori dai vostri computer con chi sta fuori dai vostri portali in una logica nuova dove l'innovazione non passa dalla tecnologia la tecnologia guardate è veramente solamente l'ultimo anello di un abito mentale che deve modificarsi provate a fare questo esercizio provate a sostituire la parola acquisizione e dire io da domani voglio A attenzione guardate ve lo giuro che il vostro atteggiamento progettuale il vostro atteggiamento di mercato cambia completamente B baratto non lo so perché ho appena letto quest'articolo andate avanti e attenzione trovate la Z che non ha trovato che non ha trovato Gerardo perché era troppo preoccupato di raccontarvi la vendita ed è giusto che sia così visto che questo è il suo mestiere il mio è un altro il mio è quello di attrezzarvi per costruire il vostro mindset in tutto quello che io ho imparato dalla cultura digitale io non mi sono mai addentrato nelle logiche degli algoritmi non mi sono mai avventurato nelle dinamiche SEO e SEM del mio scrivere c'è sempre qualcun altro che lo fa e lo saprà fare meglio di me io sono sempre stato preoccupato molto di capire quale dovesse essere la postura del mio scrivere cioè quando apro il computer le dita vanno sulla tastiera quale deve essere il mio atteggiamento il mio atteggiamento progettuale e se voi mettete in fila tutte queste parole poi Gerardo le guarderà non me le passare perché sono tanti troppi però sarà bello come esercizio magari ricavare al termine di questa giornata un po' quello che è questo nuovo vocabolario poco preoccupato attenzione io non è che faccio di mestiere il boy scout so benissimo quanto sia importante vendere qualcosa a qualcuno e so benissimo soprattutto in questo momento dopo i dati anche che sono stati pubblicati ieri relativi alla vostra industria ieri è uscita una ricerca di Nomisma che ci dice delle cose incoraggianti ma ci dice anche insomma ci ratifica un fatto che è un mercato in questo momento come tanti altri in sofferenza allora lo so benissimo che siamo sul mercato per vendere qualcosa a qualcuno anni fa un bellissimo documento scriveva a proposito dell'internet che stava arrivando non vi preoccupate continuerete ancora a fare i soldi purché non sia l'unica cosa che avete in mente allora allora se voi spostate questa prospettiva e provate a fare l'esercizio che vi ho consegnato probabilmente dico probabilmente potreste arrivare a smuovere qualche sinapsi e scoprire che vendere qualcosa a qualcuno è l'ultimo atto di un percorso che è stato costruito in un determinato modo è il primo passo di una nuova relazione che serva a fortificare la vostra presenza sul mercato perché nel frattempo oltre a quella vendita avete distribuito conoscenza cultura consapevolezza ironia saper fare e il vostro diventa un mestiere finalmente in grado e qui chiudo riferendomi a quello che diceva Gerardo in apertura di attrarre sì i giovani per un mestiere che in questo momento non ne attrae perché non è visto come un mestiere meaningful questo stanno cercando quando invece vendere case secondo me è uno dei mestieri più importanti nel mondo perché nella casa nella nel passare c'è qualcosa di atavico nel momento da quando siamo passati dal nomadismo alla caverna abbiamo bisogno abbiamo avuto bisogno la civiltà di fermarsi di mettere radici di costruire tende caverne accendere fuochi lì lì dentro c'è la casa lì dentro c'è quello che vendete potete continuare a farlo come come l'avete fatto fino a qui liberi tutti buona fortuna oppure potete cominciare a innescare come una miccia un nuovo percorso che vi fa brillare per un'età quella ibrida alla vigilia della quale ormai ci troviamo che non vi darà non vi darà la possibilità contraria e magari anziché vendere al metro quadro cominceremo a vendere in funzione di quelle che sono i destini e le aspettative delle persone che riprenderanno entrare nelle nostre agenzie oppure semplicemente vi vedranno dietro un monitor ma dietro quel monitor riconosceranno una presenza rilevante per le loro per le loro vite credo di essere stato anche magnificamente nei tempi che mi erano stati indicati merito di un timer che però è ripreso a girare vi saluto vi ringrazio buona scrittura buon lavoro grazie Gerardo grazie a chi è dietro le telecamere i mixer e tutto quanto grazie davvero e vi lancio Rudy Bandiera che oltre a essere insomma una persona con la quale si dialoga sempre molto volentieri vi dirà cose significative anche dal suo punto di vista anche lui è un osservatore esterno ed è bello che sia qui con me a chiudere il cerchio di questi interventi di apertura buon lavoro e buona giornata a chiudere a chiudere a chiudere a chiudere a chiudere a chiudere a chiudere